per l'Irona Cervi che poi crossa di nuovo a destra a cercare Milinkovic, prima che non ha visto la diagonale, brava la Lazio, attenzione, Luiz Salberto, Luiz Salberto, rimbattuta per Dino, Guardate, guardate, parata, no, non ci credo, no, no, clavo Roserone Diut, clavo Roserone Diut che regala la palla alla squadra Bianca, attiro, mamma mia, immobile uno contro uno, immobile immobile, prova lo spunto in velocità, immobile e rigore, questo è il rigore, cazzo di rigore per la Lazio, andiamo, grande Ciro, grande Ciro, immobile, Sino, Sino, The King, rischia però da una bella, guarda che bella azione della Lazio, Lazzari, ho di nuovo fallo, ma me lo devi cacciare via, e basta, e basta, va a casa, e finalmente spulso, da centrale, verticalizzazione di Leva per Correa, per attenzione, Correa, 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 fuori, perché Leva gli ha detto, vai che ti apro io, immobile, 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 bella palla per Correa, Correa, ci sta la Mariusic, no, troppe, attenzione, ecco il cross, oh, questo è solo, no, no, non c'è, attenzione, brucia pericoloso, palla tirata male, no, no, la cicano, attenzione, tiro, Traverso del brucio, traverso del... Ed è finito! Ehi, faccio!